Ragazzi rieccoci tornare con un bel video e ormai se mi vedete qui a schermo capite che la faccenda è grossa però vi vorrei correggere su questo punto perché in realtà questa faccenda non è grossa è immensa, gargantuesca, signori allacciate le cinture perché forse stiamo per entrare nella migliore delle timeline però sapete qual è un'altra delle migliori timeline? quella in cui il sottoscritto e l'impero realizzano il sogno di poter fare quello che state vedendo, quello che vedete adesso tutti i giorni una timeline tra l'altro molto facile da raggiungere, basta semplicemente iscriversi e lasciare un bel mi piace e ragazzi se quello di cui parleremo oggi si avvererà significa che a questo mondo tutto può accadere anche quello di trasformare questo hobby un domani chi lo sa in una vera e propria professione ma di cosa parleremo oggi? di quello che fino a qualche settimana fa era solo un rumor, un neo, un niente, un'inezia, un non nulla, una quisquiglia una notizia che come è arrivata se n'è andata, una notizia che col passare del tempo è sfumata sempre più fino a finire del menticatoio una notizia che si è lasciata abbandonare al vento e l'abbiamo vista allontanarsi sempre più ma che in realtà era una scintilla che stava per scatenare un incendio che probabilmente cambierà per sempre il panorama videoludico tutta questa potenza del letterale e del figurato per dirvi che l'argomento di oggi è Microsoft e la sua possibile destino multipiattaforma infatti qualche settimana fa erano usciti i primi rumor che tra l'altro abbiamo commentato su Twitch link in descrizione mi raccomando andate a seguire quel canale rumor secondo cui un paio di giochi esclusivi Xbox sarebbero usciti anche su Playstation e Nintendo Switch giochi medio piccoli ovviamente come Hi-Fi Rush e Sea of Thieves con quello che molti già chiamavano come l'effetto Sega Scusate con la mano quando sente questa parola si muove da sola ovviamente parlo di Sega casa di sviluppo di videogiochi non di altro ma per coloro che iniziano ad avere i primi peli sul petto beh sappiate che non è sempre stato così ma che in passato era anche una casa di sviluppo console infatti negli anni 80 era la rivale principale di Nintendo andando a creare console come il Sega Master System, il Sega Mega Drive e soprattutto la loro mascotte capace di far tremare il rivale Mario ovvero Sonic ma negli anni 90 con una Nintendo che continuava a dominare con l'uscita del Super Nintendo e successivamente con il Nintendo 64 e il Game Boy Color e con l'entrata in scena di una nuova rivale chiamata PlayStation che come un Raz è partito con una potenza assurda Sega iniziava a cadere nell'ublio tanto che negli anni 2000 prese la decisione di ritirarsi dal mercato console e diventare produttore di terze parti portando i suoi brand anche il suo personaggio più iconico sulle console Nintendo e PlayStation cosa che sembra sia per accadere anche con Microsoft perché i rumor di queste ore ragazzi sono di una potenza incredibile con una Microsoft che sembra voler portare non solo piccoli giochi quasi indie ma anche quelle esclusive su cui avevano puntato letteralmente tutto negli ultimi anni a livello di marketing, a livello di presentazioni e che avrebbero dovuto portare nuovi clienti nelle loro fila e che avrebbero dovuto dare un nuovo volto a una società che oramai sembrava aver abbandonato il concetto di videogiochi powerhouse come Starfield e il Blade 2 e il recentissimo Indiana Jones ma non solo perché ci sono anche dei rumor che vedrebbero arrivare su PlayStation saghe storiche e iconiche come Halo e Gears ora, su questi ultimi mi sembra molto esagerata come cosa però sapete adesso si fa un po' a gara chi la spara più grossa però se così fosse, cioè la cosa mi farebbe scapocciare ma perché sta accadendo questo? beh, molto semplice Microsoft come tutte le aziende vuole i cash, i big money ed è inutile negare che dal punto di vista console è pari a nulla, soprattutto paragonato allo strapotere di Switch e PlayStation 5 quindi mi sembra giusto che il primo passo sia quello di uscire definitivamente dal mercato console andando ovviamente a risparmiare sui costi di produzione di un qualcosa che non vende nemmeno con i recentissimi sconti e nemmeno con il Game Pass essendo esso giocabile anche su PC però purtroppo non solo di Game Pass può vivere Microsoft e quindi aprire la possibilità di guadagnare sulle spalle della concorrenza è un'occasione più che ghiotta cioè immaginate quanto potrebbe vendere di più uno Starfield se dovesse uscire su PlayStation 5 o sull'imminente Switch 2 tra l'altro venduto a 70-80 euro cioè ragazzi è matematica molto semplice sono addizioni e moltiplicazioni molto banali ed è proprio per questo che all'inizio ho parlato della migliore delle timeline perché immaginatevi un futuro dove Microsoft diventa publisher personalmente la vedo come un guadagno per tutti Microsoft in primis perché andrebbe a parassitare due delle console più vendute nella storia giochi che dapprima davi gratis col Game Pass adesso li puoi vendere a prezzo pieno sulle altre console e come ho detto è matematica molto semplice, molto banale Nintendo e soprattutto Sony non perderebbero nulla soprattutto dopo le grandi acquisizioni fatte da Microsoft negli ultimi anni perché se ben ricordate uno dei problemi principali uno dei punti fondamentali dell'accusa contro queste acquisizioni era proprio quella di togliere delle saghe che per anni sono state multipiattaforma alla concorrenza invece adesso con la prospettiva che giochi come Doom, Fallout, Crash Bandicoot, Call of Duty e Elder Scrolls continuino a rimanere multipiattaforma non c'è più il rischio di far scappare i fan di queste saghe sulle console rivali anzi magari potreste anche attirare nuovi clienti che abbandonerebbero una console abbandonata e ci andremo anche a guadagnare a noi videogiocatori perché aprirebbe a un futuro dove veramente tutti possono giocare a tutto esce Elder Scrolls 6? No problem perché che tu abbia un PC col Game Pass o una Playstation va bene così gioca, divertiti esce, che so, un nuovo The Last of Us? No problem perché Sony è già iniziato tra l'altro con una frequenza sempre più ravvicinata a portare grandi esclusive su PC esclusive tra l'altro importantissime come appunto The Last of Us God of War Spider-Man, Horizon Uncharted giochi che fino a qualche anno fa era impensabile vedere su altri leadi che non fossero Playstation ma che adesso sono giocabili da chiunque insomma una vera e propria utopia videoludica o magari finiremo in una distopia dove Microsoft dominerà tutto e distruggerà tipo virus la concorrenza dall'interno chi lo sa ragazzi vedremo ma è interessante vedere come le cose sono cambiate in poco tempo cioè ragazzi fino all'estate scorsa Microsoft durante il processo per l'acquisizione di Activision Blizzard cioè sparava a zero su Playstation attaccandola tra l'altro in maniera poco velata adesso è rincuorante è piacevole vedere questo possibile ramoscello di olivo tra l'altro questa situazione mi fa venire in mente una delle scene più belle a cui abbia mai assistito dove ai game awards 2018 sul palco in contemporanea erano presenti i tre rappresentanti delle tre grandi aziende videoludiche un simbolo di fratellanza dove in quel momento non erano capi di azienda ma persone con una cosa in comune l'amore verso i videogiochi ma che cosa è cambiato effettivamente? perché ragazzi questa situazione non è nuova non ce la portiamo dall'altro ieri cioè questi sono problemi che nascono dai tempi di Xbox One insomma poi la console nuova non vende dall'uso uscita non vende dal 2020 e ci sono tra l'altro un po' di report negli ultimi mesi che vedono come l'ecosistema Game Pass stia diventando a poco a poco insostenibile tanto che appunto tra i mille rumor di questi giorni sembra che Microsoft voglia rimuovere il concetto di al day one sul Game Pass però qui entriamo in altri argomenti di cui magari parleremo più avanti torniamo all'argomento principale qual è una delle cose che è cambiata in questi ultimi mesi? molto semplice l'addio di Jim Ryan ora non voglio fare il complottista non voglio fare supposizioni anche se in realtà lo fanno tutti quindi perché no? anzi c'è gente che lo fa proprio di professione che vende supposizioni come fatti reali ma le coincidenze sono abbastanza rare e cosa è successo praticamente negli ultimi sei mesi e poco più? abbiamo una Sony che al Summer Game Fest crea un evento con una forte presenza di game as a service tipo di giochi che per Jim Ryan sono sia il futuro del gaming sia proprio il futuro di PlayStation pochi mesi dopo una frattura totale nei confronti di Microsoft dopo la diattriba di Activision Blizzard adesso che se n'è andato abbiamo una Sony che fa marcia indietro sui gas andando a cancellare tra l'altro uno dei più importanti come il multiplayer di The Last of Us e adesso una possibile stretta di mano con la rivale di sempre insomma ragazzi le coincidenze iniziano ad essere un po' tante ma noi nel dubbio fanculo Jim Ryan non posso dire che sia stato bello ma secondo voi questa notizia è stata presa bene da tutti? domanda retorica ovviamente no infatti potete immaginare la furia dei fan Xbox che in parte capisco perché vedere la possibile morte della propria console della console con cui magari sei cresciuto col brand con cui sei cresciuto non è piacevole per niente però per molte persone che vedono questo come un processo inevitabile come un'evoluzione inevitabile del mondo del gaming di Microsoft che dicono vabbè ma tanto cioè io ho il Game Pass a me cambia poco ci sono tante altre persone che sono semplicemente fastidite dal fatto che molti dei giochi che erano loro di loro proprietà vengono giocati da altri ecco a questa gente posso solo fare che ciao con la manina speriamo che tutto ciò sia veri perché così ci togliamo un po' di fanboy dal cazzo fanboy che devono togliersi il panolino e mettersi le mutande da adulto e capire che stiamo parlando di una multinazionale tra l'altro americana quindi er meglio del meglio e che non può non considerare delle possibilità enormi di guadagno per partito preso cioè l'idea che c'è gente che pensa che Phil Spencer alla proposta di uno Starfield su PlayStation 5 si alzi in piedi e dica no è un'esclusiva Xbox l'ho promessa ai fan e piuttosto che vederla sulla PlayStation preferisco il fallimento cioè è veramente è veramente assurdo cioè se veramente fosse così cioè questo uomo andrebbe rinchiuso quindi in chiusura viva il multipiattaforma viva i videogiochi fanculo console war e fanboy anche se le ricorderò con un po' di nostalgia ai tempi di quando si poneva a fare la domanda meme del ma è meglio PlayStation 3 o 360 quello è un periodo che ricorderò con con grande nostalgia ma ora in questo mare di merda tra rumor notizie folli panico generale non ci resta che aspettare settimana prossima dove sarà lo stesso Phil Spencer a fare una dichiarazione ufficiale sul futuro di Xbox ragazzi vi posso già spoilerare che di certo non smentirà tutto cioè fare un evento ufficiale bastire tutto sto baraccone per apparire semplicemente due minuti a video e dire a coglioni pesce da aprire anticipato to suca Sony suca Playstation mi sembra quasi impossibile cioè se non ci fosse un piccolo fondo di verità in nessuna di queste notizie cioè avrebbe fatto un comunicato immediato su Twitter dove negava tutto quindi anche solo che una cosa di tutte queste notizie che stiamo sentendo la do certa per vera e noi ragazzi detto questo ci vediamo nel futuro e vedremo cosa accadrà perché allo stato attuale solo Phil Spencer e quella piccola stretta di collaboratori che è attorno sa qual è il vero futuro di Microsoft e della sua divisione gaming però per non fare un video a senso unico magari ditemi la vostra cosa ne pensate di un futuro dove Microsoft abbandona il concetto di esclusività e abbandona il concetto di console per darsi come publisher multi piattaforma detto questo noi ci vediamo al prossimo video per la visione per l'armono per l'armono per l'armono Grazie a tutti.